Musica Benedizione delle mamme in attesa preseduta da Monsignore Corrado Lorefici, arcivescovo di Palermo e dal vescovo di Piazza Merina, Monsignore Rosario Gisana, ieri nella chiesa Sant'Agostino di Gela in occasione della festa della Madonna del Parto. L'animazione della celebrazione eucaristica è stata affidata al CAV, Centro di Aiuto alla Vita e al Coro Cor Unum. Voi da anni proclamate l'importanza della vita, tutta la vostra attività è un inno alla nascita? Assolutamente, noi proclamiamo questo, l'importanza che ha un periodo così dominante nella vita di una donna che è quella di portare alla luce una vita, la vita del proprio bambino. Il CAV offre un supporto molto importante anche a tutte quelle donne che non hanno la forza di affrontare una gravidanza e spesso sono anche tentate dalla voglia di interrompere. Sì, questo capita in questo percorso della donna perché si attraverso un periodo di grande fragilità. Non sempre la gravidanza è accompagnata da grande forza, anche di spirito per poter affrontare comunque tutta l'importanza che richiede la nascita di un figlio. E in determinate condizioni questo può sembrare ancora più pesante. Ecco che la nostra associazione dice solo questo, si presenta proprio a ogni donna, ad ogni mamma che attraversa questo periodo di affrontarlo con un sostegno, con qualcuno che ti sta vicino, che ti ascolta, che ti supporta, che ti accompagna, come facciamo oggi, che accompagniamo le nostre prossime mamme e che chiedono soltanto di essere semplicemente benedette durante questa celebrazione. Il CAV infatti vuole essere proprio questo, quasi l'eco di questo rintocco di campane, un eco di un inno alla vita. Ieri erano presenti i soci della sua L'Optimista di Gela che nel 2012 hanno fatto restaurare l'antica immagine. Noi siamo venute in questa chiesa ad offrire il restauro di un quadro, di una statua. Padre Sassetta dopo pochi minuti scese con questo meraviglioso quadro che era rovinato dal tempo, presentava delle lacerazioni. Ce l'ho affidato con grande fiducia e noi lo abbiamo dato nelle mani della nostra socia Maria Grazia Vitale che lo ha restaurato con grande professionalità e dedizione, restituendogli l'antica bellezza. Questo quadro oggi è qui, esposto all'altare. Per noi questo è un momento di profonda gioia. Ci piace essere coinvolte in questa festa perché è un po' la festa del Sor Optimist in quanto siamo riusciti a donare a questa chiesa un quadro bellissimo, antico e molto simbolico. Sabato e domenica prossimi, presso la chiesa di Sant'Agostino, arriveranno dal santuario di Cascia le reliquie di Santa Rita. Il reliquiario in quest'anno giubilare sta visitando tutte le chiese nel mondo dove si venera la santa dei casi impossibili. E' Gaetano Armao, il primo professionista che farà parte del pool di avvocati che seguirà i comuni coinvolti nelle variazioni territoriali. Armao è docente di diritto amministrativo e contabilità pubblica all'Università di Palermo, nonché di diritto dell'economia all'Universitas Mercatorum Roma, avvocato cassazionista con studi associati a Palermo e Roma, sotto di una società londinese e dell'Associazione Italiana di Ditto Urbanistico e Giuristi per le Isole. E' anche presidente del Consorzio Universitario di Agrigento. Lo hanno individuato il Comitato per lo Sviluppo della Regio Lese, il Comitato Pro Referendum di Piazza Merina, quello per i liberi consorsi di Niscemi e la Consulta di Niscemi. Armao è stato già consulente del Consiglio d'Europa, della Commissione Bicamerale Antimafia, dei Governi Nazionale e Regionale e oggi fa parte della Commissione Bicamerale per le Questioni Regionali. E' stato per tre volte Assessore della Regione Siciliana. Avevamo promesso battaglia all'Assemblea regionale per la decisione di non far passare Gere, Piazza Merina e Niscemi alla città metropolitana di Catania e questa battaglia la stiamo portando avanti. Ovviamente dovremmo rivolgerci al TAR per avere diritto a ciò che i gelesi, i piazzesi e i niscemi hanno scelto e lo faremo attraverso un pool di avvocati che sarà di primo ordine. Appunto il primo avvocato che abbiamo contattato che ha accettato di seguire questa vicenda è il professore Gettane Armao. Parliamo di un professore conosciuto in tutta Italia, molto capace e appunto conosce a fondo anche l'argomento inerente i libri consorsi. La scelta è stata fatta di concerto con l'amministrazione di Gela. Adesso aspetteremo le altre amministrazioni per conoscere anche i nomi degli altri professori che a breve renderemo noti. Si è lavorato in questi mesi, si sta ancora lavorando per preparare il miglior piano a difesa delle volontà espresse dai consigli comunali e cittadini di quest'area rispettando la giusta tempistica. Gela, Piazza Almerina e Niscemi vogliono andare a Catania e lo hanno ampiamente dimostrato attraverso il referendum. Le date lanciate da alcuni gruppi in questi giorni di un'eventuale scadenza di presentazione in ricorso sono sbagliate, sono false e non si fa altro che mettere discordia tra la popolazione su un argomento che è ben chiaro che finora è stato condotto da questi comitati in maniera eccellente, non sbagliando nessuna mossa. La prossima mossa sarà appunto quella del Tarre e lì ribalteremo un risultato in maniera democratica e faremo vedere alla regione siciliana come democraticamente i cittadini hanno il diritto di scegliere ciò che vogliono. Dovremmo rivolgerci al Tarre per avere diritto a ciò che i gelesi, i piazzesi e i nicemesi hanno scelto e lo faremo attraverso un pool di avvocati che sarà di primo ordine. Appunto il primo avvocato che abbiamo contattato che ha accettato di seguire questa vicenda è il professore Gettana Armao. La scelta è stata fatta di concerto con l'amministrazione di Gela adesso aspetteremo le altre amministrazioni per conoscere anche i nomi degli altri professori che a breve renderemo noti. La dichiarazione appena sentita rilasciata ieri dal coordinatore del Comitato per lo sviluppo dell'area gelese Filippo Varanzone non è andata giù al Comitato Gelensis Populus sì alle battaglie per averle riconosciuto il diritto all'immigrazione alla città metropolitana di Catania ma come mai sostiene il portavoce Riliana Bellardita l'iniziativa è stata presa di concerto con l'amministrazione comunale? La scelta del professionista è stata fatta dal Comitato congiuntamente all'amministrazione io chiaramente come penso qualunque cittadino Liggio è andato presso il sito online del Comune di Gela per andare a verificare se esisteva una delibera perché i professionisti si incaricano con delle delibere di giunta devo essere sincera fino a questa mattina tarda mattinata non esiste una delibera di giunta in cui risulta la nomina fatta da questo professionista per cui vorremmo capire a che titolo il signor Franzone fa questa dichiarazione alla quale comunque noi applaudiamo perché la nomina di un professionista è quello che noi abbiamo chiesto e che continuiamo a chiedere il nostro countdown non smette continuerà fino alla proposizione del ricorso ci saremmo aspettati che analoga dichiarazione o meglio questa dichiarazione venisse fatta dall'amministrazione ed inoltre aggiungo che la necessità della verifica dell'esistenza di una delibera di incarico si rende necessaria anche per capire l'incarico, il contenuto, l'oggetto dell'incarico che viene dato al professionista il professionista è uno stimato avvocato amministrativista vorremmo capire qual è l'atto che dovrà essere impugnato e visto che veniamo tacciati di falsità in ordine a termini per l'impugnazione che ce li vengano a dare quali sono questi termini dell'impugnazione invece di rimane tutti nella stessa direzione poi ogni giorno sorge una polemica la battaglia dei liberi consorsi e delle città metropolitane è una battaglia della comunità gelese non c'è nessuno che può assolutamente arrogarsi il diritto e men che meno io di dire che è una battaglia mia Sulle prossime scadenze elettorali lei, Pepe Di Cristina, segretaria locale del PD ha avuto numerosi incontri a Roma con i vertici nazionali del Partito Democratico è stata l'occasione per affrontare soprattutto la vertenza Gela perché già lei in più occasioni aveva detto quando andrò a Roma porterò sul tavolo del responsabile del partito la problematica che vive la città Sì, questa è stata una prima fase della discussione che abbiamo voluto cominciare col Partito Nazionale l'abbiamo cominciata ai massimi livelli ieri ho avuto l'onore di partecipare a un incontro organizzativo a livello nazionale presieduto dal Presidente Nazionale del Partito e dal Vice Segretario Nazionale e in quell'intervento io ho suddiviso il mio intervento in due fasi la prima fase in cui ho sostenuto le ragioni che ci spingono a sostenere il sì al referendum nella seconda fase ho sostenuto le questioni che riguardano la nostra città che oggi vive una situazione drammatica di difficoltà di un'avvertenza che è tutt'altro che superato il primo partito della città nonostante è all'opposizione a livello locale con forza e convinzione non può che usare i suoi interlocutori utilizzare le interlocuzioni nazionali per tentare di dare risposta adeguata a una città che sta soffrendo Ecco le risposte dall'interlocuzione Le risposte sono risposte di grande attenzione e di impegno ma avremo nelle prossime settimane una serie di tavoli a massimi livelli anche con esponenti del Governo proprio per affrontare la questione con grande rispetto per tutte le istituzioni perché il nostro è un partito che lavora sempre in un quadro di responsabilità e tuttavia siccome il primo partito della città non può esimersi rispetto a grandi questioni vuole avere un'interlocuzione forte da parte dei dirigenti e del Governo nazionale l'interlocuzione è di dirigenti e di esponenti di Governo che sono attendi alla questione di Gela Però Perai hanno sentito fino ad oggi soltanto i fiumi di parole Di concreto cosa c'è? Guardi io non sono tra quelli che può essere iscritto ai fiumi di parole perché non ho le responsabilità rispetto al regresso Io come il gruppo dirigente che sta lavorando nel Partito Democratico attualmente quello che noi possiamo dire è che noi abbiamo fatto un congresso e ci abbiamo messo la faccia non ci nascondiamo, siamo in mezzo alla gente e siamo assolutamente convinti che rispetto alla questione industriale Gela debba continuare ad avere una vocazione industriale Rispetto a questo il Partito Democratico della città ha avuto un atteggiamento di grande coerenza e continua a sostenere con convinzione che quella è la strada continuare ad avere una visione industriale che cambia nel rispetto dell'ambiente nella tutela del territorio ma non possiamo perdere quella storia perché perdere quella storia significherebbe ridimensionare dal nostro punto di vista in senso negativo questa città Martedì 11 ottobre dei cittadini di Niscemi hanno iniziato una protesta davanti la direzione dell'Asp Nissena non alla chiusura del pronto soccorso si legge nei manifesti una protesta cominciata intorno alle 7 del mattino sino alle ore 20 circa i cittadini si sono presentati in via Cusmano con due bare e dei cartelli si torna a parlare di sanità dunque e soprattutto di un'altra protesta a qualche giorno di distanza da quella effettuata da un gruppo di cittadini di Mazzarino insieme all'amministrazione per richiedere un incontro con i vertici dell'Asp e parlare del futuro dell'ospedale nel comune di Mazzarino questa volta invece la protesta arriva dai cittadini di Niscemi preoccupati per le sorti del suor Cecilia Besarocco le nostre richieste e le nostre preoccupazioni sono intanto di mantenere il pronto soccorso di renderlo autonomo con un'aggiunta di specialisti e di personale idoneo per poter essere efficienti poi le preoccupazioni rimangono sempre da parte della politica dalla volontà politica regionale quella di sopprimerlo ma di sopprimerlo non ne dobbiamo nemmeno parlare perché noi siamo considerati a quanto pare delle persone non avendo il diritto di servizi sanitari noi ci opponiamo a questa cosa lo facciamo pacificamente e civilmente e anche nelle sedi opportuni penali e amministrativi per i cittadini sono le difficoltà di raggiungere in tempo per patologie d'emergenza da Niscemi a Gela perché loro vogliono riconvertire il pronto soccorso in PTE di postazione territoriale d'emergenza da Niscemi a Gela ci sono 40 minuti di viaggio di disagi per arrivare al pronto soccorso di Gela e tante patologie d'emergenza non permettono non danno il tempo nemmeno di arrivare a vivere al pronto soccorso di Gela affrontare e risolvere il regolamento costitutivo dei comitati di quartiere con annesso bilancio partecipato è stato uno degli argomenti trattati nel corso della riunione tra il coordinamento dei comitati di quartiere di Gela e i componenti della commissione bilancio la commissione bilancio ha lavorato sul regolamento che disciplina il funzionamento dei comitati di quartiere e che di fatto è un regolamento rivoluzionario ovviamente come commissione bilancio siamo intervenuti sulle parti relativi alla contabilità, a quello che può incidere sul bilancio comunale in particolare abbiamo emendato e lavorato con i comitati di quartiere tant'è che l'incontro è stato fatto assieme ai rappresentanti dei comitati di quartiere proprio per agevolare la realizzazione della democrazia partecipata il lavoro è stato fatto sia sulla parte che prevedeva la possibilità di assegnare immobili comunali ai comitati di quartiere possibilità che viene riconosciuto al regolamento e che noi abbiamo avallato pur che questo venga mantenuto nell'onere della valutazione e poi un punto veramente molto importante è stato quello della democrazia partecipata e delle forme del bilancio partecipato dove almeno il 2% di un fondo specifico dovrà essere destinato a incentivare la democrazia partecipata al termine dell'incontro la bozza di regolamento è stata esitata favorevolmente dalla stessa commissione ed approvata all'unanimità da tutti i presidenti dei comitati di quartiere spontanei presenti all'incontro adesso l'esame del testo passa alla commissione affari generali la quale avrà il compito di valutare il testo nella sua interezza ed esprimere un parere di conformità in relazione alle normative vigenti un rapporto di collaborazione importante e forte con tutti i comitati di quartiere al fine di andare al di là degli attuali comitati di quartiere quindi verso il superamento di questi organi e definire all'interno del consiglio comunale condistituzionalizzare tramite un regolamento nuove aree urbane che faranno la interfaccia tra la città il consiglio comunale e l'amministrazione comunale il presidente della commissione bilancio Salvatore Scerra si è dichiarato soddisfatto dell'incontro riconoscendo che il dibattito democratico scaturito è stato abbastanza proficuo perché ha consentito di chiarire importanti aspetti relativi sia alla quota percentuale da destinare ai vari quartieri sia a quelli connessi all'assegnazione dei locali da destinare alle aree urbane anche il presidente del coordinamento dei comitati di quartiere Carmelo Tandurella ha manifestato la propria soddisfazione riconoscendo l'importanza di questo primo importante passaggio ed auspicando un'altrettanta rapida disamina ed approvazione anche da parte della commissione affari generali Fai la cosa giusta mantieni il decoro urbano della nostra città Oggi domenica dalle 22 alle 5 depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina, di frutta e di verdura formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti fondi di caffè, filtri di tè e camomilla sfalci, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche senza terra e senza vaso pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici Per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto 91 milioni di euro arriveranno a Gela dal patto per la Sicilia firmato qualche settimana dietro ad Agrigento dal premier Matteo Renzi altri 21 sono destinati a Mussomeli non accade né ogni mese né ogni anno di avere la possibilità di realizzare opere pubbliche ci auguriamo strategiche per una provincia dimenticata da decenni che senza la costruzione della Caltanissetta Agrigento potremmo definirla al dopo precipizio cosa ben più grave dell'orlo del precipizio lo dicono Ignazio Giudice, segretario generale della CGL e Franco Cosca, segretario della Fillea CGL i quali si appellano al buonsenso del ceto politico-amministrativo che in fase di appalto e relativa a giudicazione dovrebbe inserire una clausola sociale di salvaguardia per i lavoratori del territorio che da decenni sono disoccupati La politica ci ha abituato agli annunci invece i lavoratori cittadini, soprattutto i disoccupati e le disoccupate aspirano a fatti concreti i fatti concreti possono arrivare in Sicilia in questo caso per esempio in provincia di Caltanissetta attraverso questo mega finanziamento di 121 milioni tra Gela e Mussomeli 91 a Gela e 21 a Mussomeli in infrastrutture le infrastrutture creano sviluppo, creano un indotto possono dare occupazione anche a tanti architetti geometri, geologi, ingegneri oltre a tanti carpentieri, manovale, manovratori noi abbiamo proposto che i disoccupati di lunga durata possono avere una priorità assoluta su tutti e soprattutto i lavoratori del territorio quindi noi pensiamo di incontrare la presenza della regione e soprattutto i sindaci interessati alle opere pubbliche da appaltare ed inserire nel patto per la Sicilia per fare avere una priorità ai disoccupati che sono privi di reddito e che quindi sono disperati Luzione Graffi, da oggi allora che fa? Siete sforzati? Non avete più un locale? No, abbiamo 30 giorni ci hanno dato 30 giorni di tempo una lettera concisa in cui si dice che l'amministrazione intende revocarci i locali con una motivazione abbastanza diciamo strumentale in cui si dice che noi non abbiamo un contratto per cui non possiamo stare là tenuto conto che il contratto era compito dell'amministrazione redigerlo perché noi abbiamo avuto una una delibera di affidamento e nelle more dovevano provvedere loro a fare il contratto quindi voglio dire ci tolgono i locali per una motivazione che non è nostra E ora cosa farete? Come farete? considerato che avete avviato anche numerosi progetti? Voglio dire la nostra è un'associazione che in questo territorio opera da 25 anni e voglio dire quello che abbiamo fatto è sotto gli occhi di tutti soprattutto del quartiere che negli ultimi dieci anni ha visto la nostra associazione insieme a tante altre realtà operare in quel quartiere certo è un problema serio in un momento in cui la città vive una crisi profonda economica sociale con tutta una serie di problemi si colpiscono le associazioni che in questi mesi in questi anni hanno in qualche modo con tante difficoltà però sostituito a volte anche il ruolo delle istituzioni per cui da una parte mi tolgono ci tolgono i locali dall'altra i servizi sociali ci chiamano per assegnarci casi per ragazzi per ascoltare per consulenze legali per consulenze psicologiche quindi insomma anche all'interno del comune dovrebbero come dire mettersi d'accordo perché se tolgono i locali vuol dire che hanno intenzione di fare altro E come lo direte ai ragazzi che siete sfruttati? Beh, noi diremo che per una cosa burocratica loro non potranno più frequentare il loro circolo dove fanno musica dove imparano a suonare gli strumenti musicali dove fanno attività di animazione dove facciamo convegni dove c'è lo sportello dei diritti lo sportello di ascolto per le famiglie dove grazie a un finanziamento del ministero delle politiche giovanili siamo riusciti a stiamo avviando un progetto cantieri sociali rivolto all'aggregazione giovanile quindi provare a fare delle esperienze ancora più interessanti per i ragazzi è un atteggiamento che secondo me nasconde altre cose perché altrimenti tu le associazioni le chiami discuti e provi a capire qual è la difficoltà qual è il problema se qualcuno pensa di chiedere alla nostra associazione o ad altre associazioni atti di sottomissione noi evidentemente non conoscono nell'arci nella storia delle persone che la abitano noi non ci sottomettiamo a nessuno il loro gesto non lo ritengo un gesto costruttivo cerimonia conclusiva oggi al tribunale di Gela della prima annualità del percorso di alternanza scuola-lavoro condotto dalla liceo classico Eschilo e dall'ordine degli avvocati di Gela una convenzione che visto 18 liceale e 15 avvocati gelesi impegnati in elezioni teorico-pratiche mirate alla conoscenza delle basi del diritto e del lavoro degli avvocati e dei magistrati l'esperienza sarà ripetuta anche nell'anno scolastico in corso oggi nell'aula Moscato del tribunale la consegna degli attestati agli alunni e agli avvocati impegnati nel percorso Ho intrapreso questo percorso di scuola-lavoro in ambito giuridico ed è stata per me un'esperienza molto importante credo anche per quelli che lo intraprenderanno quest'anno perché ti permette di fare un'esperienza diretta in primis di ciò che significa il mondo del lavoro e poi quindi nello specifico di tutto ciò che compete il ruolo di un avvocato e quindi di questo professionista legale credo che sia un'esperienza importante perché ti permette di fare questo percorso che al di fuori di questo ambito non si potrebbe affrontare o non in maniera così approfondita ci hanno portato quindi con loro pazientemente all'interno degli studi legali o all'interno del tribunale e quindi seguendo le loro udienze sia civili che penali ma anche abbiamo approfondito temi quale il diritto amministrativo diritto sul lavoro o diritto ambientale quando la scuola mi ha proposto questo indirizzo giuridico ne sono stata molto felice poiché quindi orgogliosa nello stesso momento poiché spero di al termine dei miei studi classici di poter un giorno appunto comunque approcciarmi al ramo dell'avvocatura la giurisprudenza comunque è anche molto importante poiché insegna la razionalità la ragione e vi è molta logica gli allievi hanno quest'anno svolto una lunga esperienza nelle aule di tribunale negli studi professionali e hanno partecipato alla redazione di atti alla preparazione di udienze potendo toccare con mano quello che potrebbe essere il loro lavoro il loro mestiere perché una scelta universitaria non è una cosa semplice soprattutto di questi tempi e i ragazzi che hanno più strumenti più strumenti di valutazione possono fare scelte più consapevoli ho visto la disponibilità di tanti colleghi ad ospitare nei propri studi i ragazzi ma soprattutto ad accompagnarle nelle aule giudiziarie per dare a quei ragazzi qualche cosa anche di importante di quella che è la nostra professione di avvocato e quindi dare le tecniche i sacrifici che comporta questa professione e quindi per noi è veramente positivo esplorare il mondo della giurisprudenza il mondo del tribunale con cui spesso noi stabiliamo rapporti quasi di paura di soggezione è bellissimo perché consente ai ragazzi di capire veramente cosa esprime dal di dentro questo mondo del lavoro che c'è Grazie a tutti.